ciao a tutti io sono sana e questo è il mio canale oggi prepariamo un piatto tradizionale tunisino a base di verduri che si chiama kaftegi buona visione gli ingredienti sono 200 grammi di patate tagliate a cubetti 150 grammi di zucca anch'essa tagliata cubetti 3 pomodori ognuno tagliato in 4 spicchi 2 uova peperoni dolci o piccanti e li condiamo con poi di sale e un po di cumino e freggiamo tutto tranne i pomodori con cui faremo una salsa nella quale toglieremo la buccia dei pomodori e li condiamo con l'aglio e con il comino e solo quando i pomodori si ammorbidiscono schiacciamo con un cucchiaio a 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 Grazie a tutti. Dopo aver fritto il peperone togliamo la buccia e lo tagliamo. Grazie a tutti. Pondiamo un'ultima volta con un pizzico di sale, del coriandolo e del comino. Io ho messo mezzo cucchiaino di un concentrato di peperoni rosso, ma voi potete tranquillamente farne a meno. Aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva. Tagliamo il tutto con un coltello. Infine decoriamo il piatto con le olive e con il prezzemolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.